Sono Mommy Log Legs Oh, perfetto Chiudiamo, spegniamo la luce Posso andare finalmente a dormire Oh, ma che cacchio Ma chi è a quest'ora? Sì, dimmi, che c'è? Stavo andando a dormire Ho trovato una cosa fighissima Una cosa fighissima? Di cosa stai parlando? Arrivo, arrivo Ho trovato una cosa davanti alla Va bene, cosa? Una botola Una botola? E allora che cosa me ne può sfregare a me di una botola? Non è una botola normale, è gigante Guarda Grucco, spero per te che sia una cosa seria Perché onestamente io me ne stavo andando a dormire Cos'è quella cosa laggiù? Elox, hai paura, Elox? No Siamo sicuri? Non ho mai paura Ti pare? Andiamo a vedere Sono strana Ma dove è comparsa quella botola, scusami? Non lo so, l'ho vista prima dalla mia finestra Ma che diavolo è? Oh mamma mia Guardate, è grande Appunto Oh! Cosa è diversa? Ah! Oh cavolo! Ciao, mani Sono Mommy Long Legs E vi porterò nel mio mondo di Poppy Playtime E sei pronti? No, 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 no Guardi, signorina, mi scusi, ma dobbiamo parlarne Perché onestamente Nel mondo di Poppy Playtime Che significa? Quindi tu sei un giocattolo No, ovviamente sono reale Guarda, mi sono qui davanti a te Sì, lo sto notando che sei reale Fai proprio paura Oh mamma mia Cioè, è molto carina Il problema è che sono appunto lunghissime quelle gambe Guardale Cioè, una manata del genere Uno schiaffo, un pugno Ti fa andare all'altro mondo in tre secondi, cavolo Ok Bene, posso dirle una cosa, onestamente Ok, non voglio iniziare a coprire sbagliato Mi presento e mi chiamo Svriser Sono, sono Mamma mia Ragazzi ho paura, troppo paura Vai, fai te Erox, tu sei quello più coraggioso Salve, io mi chiamo Erox Sono il più figo della città Come può ben vedere, dai miei muscoli E devo dirle che Siamo molto contenti della sua offerta Però No, noi vorremmo rimanere qui perché È la nostra casa, ecco Vi porterò nel mondo di Poppy Playtime Siete pronti? Eh, no, no, ha capito È un disco rotto No, dovevo dirle Cioè, non so se mi sono spiegato male Che noi non vogliamo lasciare la nostra casa Per venire nel suo magico mondo Che sicuramente è bellissimo Sì, come le dicevo Che noi non vogliamo lasciare il nostro posto Cioè, sicuramente è un bellissimo mondo Il suo Non ho nulla Aiuto Ragazzi non riesco a muovermi Aiuto Ma che cosa Oh mio Dio Mi ha dato una manata incredibile Non mi piace questo Ci possiamo andare Forse è meglio Ok, senta un attimo A voglia di un po' di tè Venga pure Venga pure Eh, pasticcini Sì, sì, sì A mommy non piace essere un ospite E nemmeno gli ospiti Eh, cacchio Eh, come facciamo allora? Eh, allora Non è il nostro ospite Tipo una nostra conoscente Un'amica Non lo so Che vuoi fare? Scappa, scappa, scappa Oh, che playtime Non vuoi scappare Scappa, scappa Oh, carano, andiamo Ma che coscia Oh, scappa, broca, scappa Aspetta Poppy playtime Ma che cosa Eh Ehi là Cusi Ciao Chi è che mi parla? Eh, lei chi è? Ciao Piccolo umano Ciao Sono mommy long legs Ah, la vede È rosa È tutta rosa Che lunghe queste gambe Sono lunghissime Sì Ho delle gambe Lunghissime Vorresti venire Nel mondo Di poppy playtime Eh Eh Sì Va bene Posso venirci Posso venirci Ok Allora ti porterò con me Però Prima Ho fame Non è che mi aiuterebbe Magari a trovare Qualcosa da mangiare Magari all'interno Di quel supermercato Certo Andiamo Oh perfetto Grazie mille per aiutarmi Ok Bene Eh Cosa sta facendo? Aspetti un attimo Scusi Cosa sta Oh mio Dio Ma che cacchio Oh mamma mia No 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 Non in quel modo Non in quel modo Eh Eh Ok Poppy playtime Ah 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 Oh mamma mia Ha ucciso le cassiere Cosa ha fatto Eh Oh mamma mia Eh Scusi Ha preso Ho preso del cibo Ah Eh beh Grazie È stato veramente cortese Da parte sua Signora mammi Oh Grazie delle Patate Grazie mille Eh Prego Eh Ok Va bene Questo allora me lo conservo per dopo Eh Un'altra cosa Mi servirebbero Delle Venga venga Mi servirebbero un po' di soldi Adesso 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 Sono i soldi Cos'è perché qua c'è una motola Cos'è questo coso Eh Vorresti venire nel mondo di Poppy playtime Ah sì Ma magari dopo che mi sbagli Questa 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 banca Va bene Va bene Oh Oh cacchio Oh cacchio Incredibile Mamma mia Oh Poppy playtime Che cosa è questa cosa Oh mio dio Ha appena fatto fuori forse le guardie del corpo Adesso sta forse tentando di aprire la cassa Allora Ha fatto tutto Wow Poppy playtime Oh sì Bravissima Grazie mille Com'è che hai detto che ti chiami Mommy 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 Longlegs Ah ok Ho delle gambe lunghissime Sì l'ho notata Ti piacerebbe di andare Nel mondo di Poppy playtime Eh sì Sì Mi piacerebbe Adesso che mi ha sbagliato tutto Però Non si va da nessuna parte Senza i giusti farmaci Mi pare logico E quindi Adesso Mi deve andare a sbagliare Anche quell'ospedale Vada vada Quell'ospedale Si sbrighi Mamma mia Incredibile Incredibile Ok Mamma mia È andata realmente Verso quell'ospedale Mi sta portando i farmaci Oh sì Finalmente Questo mal di gola Che ho ormai Posso finirlo Cacchio Ragazzi Avete visto Mi raccomando Questo è solamente L'inizio secondo me Perché Mommy Longlegs Secondo me può fare Molto di più di questo Quindi magari Ditemi cosa farle fare Dove farle entrare E cosa prendere Magari di soppiatto Da qualche Da qualche zona Perché evidentemente Lei con queste gambe Può andare ovunque Allora Mamma mia Ha preso tutto Ho preso quello Che mi hai chiesto Le medicine Sicura Tutto quanto Sì Oh perfetto Ottimo Ottimo Mi pare giusto Però adesso Sa cosa mi serve Una pistola Perché logicamente La sicurezza Prima di tutto Giusto Ecco Quindi Lì c'è una casserva Di polizia Vada lì Signorina Vado Brava Aspetta prima Le medicine Vieni Le medicine Oh grazie Ma questo è un letto Vabbè grazie Vada 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 Sì Oh mia Oh mio Dio Ragazzi Sparate 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 Mi sa che ha fatto fuori Un poliziotto Oddio Oh cacchio Cosa sono tutti questi spari Di polizia Oh cacchio Si sa che Oh è lei C'era lei forse Allora E fa te la pistola Wow Brava mommy Bravissima Veramente Sei Sei la mamma Sei una mamma Effettivamente Sei davvero brava Wow Ok va bene Adesso andiamo Va bene Sì Ti rendrebbe di andare Nel mondo Di Poppy Playtime E certo Che questo Mi andrebbe Ho tutto Ho Il loro Le medicine Nonché il letto Adesso me lo vado a prendere Intanto Così almeno Effettivamente Dove dormire Loro Che mi servirà Per scambiare qualcosa Sicuramente In quel posto Dove mi vuoi mandare tu E le patate Così almeno Mi metto a mangiare un po' Ottimo Adesso sì che possiamo fare Questo viaggio Mommy Spero ovviamente Di essere adottato Da tanto tempo Con te Spero ovviamente Che mi adotterei Per tanto tempo Sei pronta Sì certo Che sono pronta Tu sei pronto Assolutamente Sì andiamo 3 2 1 Via Hai visto Grucco Sei infilato dentro Quella botola Cavolo è vero È ancora aperta Sì ancora aperta Dovremmo entrare Prima che si chiuda Ok Dovremmo salvare Lox È proprio così Esatto Grucco Sei pronto Al mio viaggio No Devo andare Ok Quando vuoi Sei cattiva Ok Vado Arrivo Ok 3 2 1 C'è l'anima Stilta